Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, io sono OneSunnyTube e vi do un benvenuto in questo canale Prima di tutto iscrivetevi al canale attivando la campanella in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale La maggior parte di voi ragazzi guarda i video, non si iscrive al canale, non mette mi piace Siamo a 224 iscritti Se volete che sottoscritto faccia un ulteriore spoiler sul canale arriviamo a 250 iscritti Ne mancano 26, confido in voi Naturalmente non obbligo nessuno all'iscrizione al canale perché comunque è una vostra scelta libera Parlo per tutti voi tifosi, qualunque squadra lo vetti fiate l'importanza di iscriversi al canale Raggio per cui più iscritti siamo meglio è Allora, post partita Nations League Italia-Francia Uno, tre Marcatori Doppietta di Rabiot Uno al secondo minuto Poi sempre assist di Digne Caccio di pulizione Di Digne Gol Un altro assist di Digne su calcio d'angolo Nel secondo tempo Gol Cioè e poi noi segniamo solo con Cambiaso Su assist di Di Marco Lo vedete questo cuscino qua? Lo vedete questo cuscino qua? Ma allora Cosa avete fumato? Cosa vi è passato per la testa? Non passare per primi il girone di Nations League Ma è un'assurdità Un'assurdità Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Abbiamo fatto tutto E poi alla fine il tracollo Ma tutto distrutto Cioè all'andata le abbiamo dati tre pere A sti qua, sti mangia baguette E al ritorno ce le hanno dati loro Qua c'è quadra che non qualcosa Riformula C'è qualcosa che non quadra Cioè Come si fa a prendere tre Tre cose Tre palloni da Da calci Cosa? Com'è che si chiamano? Da palle inattive Scusate il termine Da palloni inattivi Cioè Come si fa? Come si fa? Digne è l'uomo match Digne Ma chi è che lo conosce Digne? Digne è? Chi è che lo conosce Digne? Io voglio avere Voglio Voglio tanto Voglio tanto sapere Chi è Digne Ma soprattutto Soprattutto Chi è? Cioè Chi è Digne? Ma A prescindere Abbiamo preso Abbiamo preso due gol da rabbio Due gol da rabbio Ma stiamo scherzando? Il primo gol comunque È un errore di buongiorno Quella È un errore di buongiorno Perché lì non puoi marcare così Non puoi marcare così Quando ci sono Quando ci sono i calci di punizione Non puoi marcare in quel modo No In calci d'angolo Scusatemi Non puoi marcare in quel modo Ok? Ho capito che tu sei il miglior difensore della Serie A Ma Deve avere Deve avere tanto Tanto miglioramento Tanto 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 progresso Deve avere Però Cioè A me viene il rammarico A me viene il rammarico così Tu hai fatto un girone splendido Soprattutto quello di andata Soprattutto quello di andata Cioè Per un gol Per una differenza Di reti Una Una L'unica cosa che non dovevi fare È Avere due gol di scarto Da sti mangia baguette Da sti mangia baguette Sti mangia macarone Non puoi Non puoi Poi uno dirà Eh ma questo è il karma Perché avete fischiato la marsigliese Lo posso capire Ma Come fai a perdere in questo modo? Ma come fai? Cioè Come fai? Io voglio una spiegazione su questo Su questo atteggiamento Poi Il problema era mettere Locatelli a centrocampo? Il problema era quello? Perché se dite che È tutta la colpa di Locatelli Forse Non è Non è così Però Non puoi Però Spalletti ha anche le sue colpe Spalletti ha anche le sue colpe Perché Rimetti la stessa formazione affrontata A Bruxelles contro il Belgio Rimetti la stessa cosa La stessa minestra Lì non puoi mettere il 3-5-1 E poi Barella non fa il trequartista Spalletti Barella non fa il trequartista Non è adatto al 3-5-1 Lui è a centrocampo Non può fare il trequartista Io non lo so Io non lo so Non lo so Barella per Raspadori poi Barella per Raspadori Non che Raspadori sia meglio di Barella Però Non lo so Non lo so Bisogna avere Calma perché comunque Ci siamo qualificati lo stesso Ai quarti di finale Di Nations League Che si svolgeranno a marzo Ma Quello che mi preoccupa è A marzo Tu Prima o poi Naturalmente Devi beccare Forse Verso le semifinali Lo potevo capire Ma Ai quarti di finale Già si fa tosta Si fa tosta Perché Soprattutto perché I sorteggi Che si terranno Il 22 Ovvero il venerdì A Zurigo Mi pare Non mi ricordo Per i quarti di finale Di Nations League Tu devi Sperare Di non beccare Nazioni Come la Spagna Oppure Oppure cosa Oppure La Germania Portogallo Forse È un pochettino Abbordabile Ma Spagna E Germania Ve lo dico Se li becchiamo E li affrontiamo Ai quarti di finale Sarà assai tosto Il Portogallo Forse qualcosina Possiamo fare qualcosa Ma Non voglio sottovalutare Portogallo Per carità C'ha Ottimi giocatori Però Se affronti Già la Spagna O la Germania È assai tosta È assai veramente tosta Per me Questo è Quando tu Quando tu fai Cose del genere E poi Vabbè Donna Roma Ha avuto Dirus intestinale Ma lo so neanche io Per il resto Male Abbiamo interpretato male Il primo tempo Comunque Perché Abbiamo cercato Di fare qualcosa Sì però Non tanto Secondo tempo Mi è piaciuto di più Perché comunque La cazzima Si è fatta vedere La grinta Si è fatta vedere Le reazioni Si Volevi Vincere Almeno Questa partita qua Cercando almeno Di accorciare Il risultato Però Così Se ci fosse Stato un bappé Se ci fosse Stato un bappé Questa partita qua Non sarei Non saprei Come sarebbe Andata a finire Anche se Mbappé con Real Non è che sta facendo Gran K In questa stagione E Ok La sua prima stagione Però Niente Cos'altro vi devo dire È un peccato È un peccato Abbiamo Ci tocca affrontare Delle Bigs Già ai quarti di finale Di Nations League Vediamo Vediamo Ma almeno Queste pause nazionali Almeno sono finite Le vedremo a marzo Almeno lì Ci saranno Partite più interessanti Vabbè Il video termina qui Iscrivetevi al canale Attivando la campanella In modo tale Da restare aggiornati Su ciò che pubblico In questo canale La maggior parte Di voi ragazzi Guarda i video Non si iscrive al canale Non mette mi piace Siamo a 224 iscritti Se volete che sottoscritto Faccia un ulteriore spoiler Sul canale Arriviamo a 250 iscritti Confido in voi Parlo per tutti voi tifosi Qualunque squadra Voi ti fiate Non ha importanza L'importanza Iscrivetevi al canale In più Non è obbligatorio Iscrivetevi al mio canale Perché Ha una vostra Scelta libera E Parlo per tutti coloro Che Abbiano voglia Di iscriversi Che Più iscritti Siamo Meglio è Allora Ci vediamo domani Per la Live Reaction Qualificazioni mondiali 2026 Asiatiche Per la Coppa del Mondo Naturalmente Cina Giappone Da OneSallyTube È tutto Ci vediamo domani Ciao ragazzi